Benvenuto a Nemania, allo spazio dedicato alle domande dei nostri tifosi. Benvenuti al spazio dedicato ai nostri tifosi dedicato ai nostri fanci. Quindi, prima domanda su cui sei un bambino. Chi è stato il tuo fottopolo icono quando eri un bambino? Non avevo un gioco, ero sempre più avanti. A quel tempo Red Star Berger had a great team, they won the Champions League and all that generation of 91 Red Star Berger was my idols. But, yeah, that would be my answer. Ma che dettaglio sulla storia dell'Inter? Do you know any detail about Inter's history? Yeah, I've details, how far does the thing. But recent history, yeah, I watch Inter quite a lot. I play a few times against Inter and obviously generation of 2010, they won the Champions League and obviously the treble, which is a great achievement. Not many clubs did that and a lot of players I see here in the pictures and again some of them have been playing against and a club with a big history and it's too long to explain in one minute. Invece ovviamente conosco i dettagli della storia dell'Inter, ho visto tantissimi giocatori anche prima guardando le foto, l'Inter ha fatto il triplete, una cosa indimenticabile, non l'hanno fatta in multiclub, ovviamente poi la conosco anche attraverso la mia carriera. Arriva una domanda da Bubu Inter che dice è nota la tua meticolosità nello studiare attaccanti avversari tramite video. Chi è secondo te il più forte in Serie A? Everyone knows about your attention to the tail in studying opponent forwards by videos. Who is the best forward in Serie A? In Serie A? Yes, especially now when I came to New League, probably I will watch a few clips and a few games against players I will play against and I think that's important to me to know who I'm facing but at the moment it's tough to say. I think Tevez is doing well in Juventus at the moment, Lorente as well, Gervinho in Roma, he doesn't play forward, he's playing more in wing but he is doing well and I think those three players in the show class. Lui dice, ovviamente ce ne sono parecchi, mi vengono in mente Lorente e Tevez, probabilmente anche Gervinho, anche se non è un attaccante, più un'ala però sicuramente è pericoloso, spesso studiare i miei avversari. L'ultima per noi, the last one, from United Arab Emirates, is a question about the rivalry, traditional between Inter and Juventus. if you know it and if you're ready to play against Juventus, se conosce la realità contro la Juve, se è pronto a giocarci conto. I hear that is the big derby, big game. I find out when I came to Italy actually, I didn't know, before I thought always is the big derby, which is big Inter against Milan, but I said Juventus is the same category and yeah, I hear about it and hopefully I can experience that. Conosco, sapevo che c'era il derby contro la Milan, so ovviamente anche che c'è la rivalità con la Juve e sono prontissimo ad affrontarli. The very last one, special hello to our followers and our YouTube subscribers. Un saluto speciale per gli abbonati, followers su Twitter e gli abbonati su YouTube. Hi all Inter fans, hopefully they're going to have success over here, hopefully I can perform well and help the club to move forward. Thank you, Neymar. Ciao.